Granata e vaccino anti-covid, Zappulla e Gibellino, vicenda triste, con scivolata, pericolosa. Leggiamo con un sorriso amaro e disconcerto di un assessore comunale di Siracusa che si lancia in affermazione negazionista e in offese al Ministro per la Salute, condite peraltro da dichiarazioni di incredibile comprensione e copertura da parte del Sindaco. Lo dichiarano Pippo, Zappulla e Nini Gibellino, rispettivamente segretario regionale e cittadino di articolo 1. Prendiamo atto, ovviamente, positivamente, che il Sindaco ritiene necessario e indispensabile invitare i cittadini a scegliere di essere vaccinati come vera e unica soluzione strutturale all'emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Ci suona incomprensibile, invece, affermano i due esponenti di articolo 1, l'atteggiamento giustificazionista, se non di aperta copertura nei confronti del suo assessore Granata, che scrive esattamente l'opposto. Dietro un'auto assolutoria, libertà individuale e omettendo di precisare l'esistenza della libertà e dei diritti di tutti, si nasconde la gravità estrema di un rappresentante istituzionale che non può e non dovrebbe alimentare dubbi, sospetti se non contrarietà ad una campagna vaccinale davvero di primaria e vitale importanza, dichiarano Zappulla e Gibellino. Il sostegno aperto di Sgarbi offre un tocco di maggiore mondanità ad una vicenda, a nostro avviso, davvero triste. Ci aspettiamo ora la solidarietà del generale Pappalardo e così Siracusa potrà balzare agli onori dell'imbarazzo nazionale. Consideriamo questa, dichiarano Zappulla e Gibellino, una ennesima e doppia scivolata, quella di Granata che, peraltro, in chiarissima contraddizione con le sue oscurantiste valutazioni sulla scienza, si ritiene talmente intelligente da affibbiare offese al ministro per la Salute. Quella del sindaco che, così come per l'occasione della presentazione del libro nella sede del noto movimento democratico di Casa Pound, non ha ritenuto di prendere le distanze assumendo le decisioni conseguenti. Nel ruolo ne ha il diritto e il dovere. Ma è in assoluto troviamo surreale, dichiarano i due esponenti di articolo 1, che si discute delle paturnie negazioniste di Granata e dei silenzi imbarazzati di Italia mentre si costringono i cittadini ad una sorta di percorso della sofferenza per poter ottenere la somministrazione del vaccino. Quello che sta accadendo in questi giorni all'Urban Center ha infatti dell'incredibile e dell'inaccettabile. File interminabili di persone, moltissime avanti negli anni, e fragili, costretti ad attendere in piedi e per ore. Per potersi vaccinare non possono rischiare di ammalarsi. La prima condizione, denunziano Zappull e Gibellino, che bisogna garantire ai cittadini è il rispetto, che è stato violato e calpestato. Doverose le scuse dell'ASP, ma bisogna intervenire e non sono sufficienti di certo alcuni nuovi gazebo. La Regione, la Direzione Sanitaria e il Comune, concludono Zappull e Gibellino, intervengono immediatamente per organizzare meglio il sistema delle prenotazioni, migliorare l'accoglienza all'Urban e attrezzare nuovi siti per la somministrazione della vaccinazione. Questo non è il tempo delle polemiche, della ricerca e delle responsabilità che ci sono, eppure evidenti, ma della soluzione dei problemi, ma si trovino e realizzino ora e subito.